Ho detto 1 prima ma volevo dire 17 ovviamente, il 901 riguardo il pagamento del premio, il comma 1 dell'articolo 1917, lecita ma interpretabile come tutto, sicché in quel caso in realtà il sinistro denunciato perché è arrivato dopo la cessazione del rapporto contro il quale è stato ritenuto in garanzia. In realtà la sentenza non dice esattamente questo, dice che non è insufficientemente o malamente motivata la sentenza della Corte d'Appello che reputa in quel caso, in base a una certa lettura della sentenza, vessatoria la clausola claims made. Dopo questa sentenza normalmente le clausole claims made sono state inserite fra quelle a doppia firma, il problema della vessatorietà l'abbia risolto, però insomma il problema per gli assicurati permane, come dico la criticità di fondo delle polizze professionali nostre è proprio questa, l'efficacia nel tempo. Tra l'altro quello della Cassazione era anche un sinistrino non da poco, giusto per curiosità un avvocato curatore di un fallimento si avvale della collaborazione di un ragioniere che è in studio per la gestione dei fondi del fallimento, un librettino da 2 miliardi di lire con il quale il ragioniere si invola, il curatore, brava persona, confessa il misfatto altrui al giudice delegato, viene revocato, lui si cancella dall'albo, forse anche temendo conseguenze disciplinari, automaticamente cessa la polizia per la cancellazione perché non si preoccupa di una posta, ma peraltro forse non so se gliel'avrebbero data, ma per quanto sì, perché quando l'ha stipulata lui gli sto fatto mica sapeva, fatto sta che se ne va, gli viene negato la copertura e alla fine di una lunga vicenda giudiziaria però i 2 miliardi li ha messi la compagnia d'assicurazione, io ci ho fatto diverse cause sulle polizie claims made la giurisprudenza è ancora molto variegata, c'è quella nota sentenza di cui dicevo del Tribunale di Milano io che conservo lì da utilizzare quando difendo le compagnie d'assicurazione e cerco di dire che le clausole claims sono buonissime, un paio di sentenze a corte d'appello di Bologna che sono molto ma molto favorevoli alla compagnia d'assicurazione ma non pare del tutto in sintonia con l'opinione della Cassazione ci sono sentenze peraltro di merito, un Tribunale di Roma di Rossetti ora in Cassazione è considerato un sostenitore degli interessi delle compagnie d'assicurazione ma in quel caso ha reputato nulla la clausola claims un'altra sentenza che la dichiara nulla è del Tribunale di Bologna la dottessa Candi di Tommasi, devo dire argomentate secondo me in modo discutibile entrambe ma detto questo la clausola claims non ha solo difetti certamente come ci si diceva ha il vantaggio di essere adeguata al momento in cui il sinistro si verifica in termini di massimali, ha il vantaggio di consentirmi un'interlocuzione ora con chi è il mio assicuratore ora nella loss devo andare a cercare uno che era il mio assicuratore dieci anni fa e il quale non ha un gran interesse a far bella figura con me che sono assicurato da un'altra parte insomma ha i suoi vantaggi, ha le sue ripeto criticità che sono quelle che ho detto cioè i limiti di pregresso e la fase, la sunset clause e soprattutto, credo, no soprattutto ma altrettanto almeno rilevante il passaggio da una compagnia all'altra cioè molte polizze claims prevedono che se io faccio una polizza nuova con lo stesso assicuratore i sinistri che mi vengano denunciati ora per fatti sulla polizza vecchia ma dopo che quella ha cessato di efficacia e che non sarebbero coperti rimangano coperti ma col massimale della polizza che avevo prima se invece io la polizza la vado a portare a un altro quel tipo di sinistri di cui mi arriva la denuncia la prima richiesta, una settimana dopo che ho cambiato assicuratore non me li paga nessuno salvo quello che pensa la Cassazione ma ripeto che non è propriamente scolpito nel marmo per cui finisco per essere legato mani e piedi a questo assicuratore per il resto della vita se non voglio rimanere con periodi scoperti la soluzione a queste criticità non so se esiste sul mercato io le segnavo, il mio mestiere è quello, come dire di creare dei dubbi ma non è quello di offrire delle soluzioni in questo campo l'altra criticità se ne è parlato, se ne è accennato è la regolazione del premio la maggioranza delle polize oggi sul mercato sono a regolazione differita del premio cioè viene fatto un premio su un fatturato stimato il premio è stato dichiarato in genere un po' più ridotto nel permille rispetto a quanto o anche proporzione cioè si stabilisce un tanto per mille su quel valore alla fine dell'anno assicurativo è onere dell'assicurato comunicare i dati di fatturato dell'anno decorso e l'assicuratore poi calcola un eventuale conguaglio che normalmente è previsto solo in aumento cioè se il fatturato è stato più basso non ti danni indietro una lira conguaglio che va pure pagato secondo nelle polize c'è normalmente scritto che l'assicuratore può ricordarti questo adempimento ma che te lo devi comunque tenere in mente da solo e c'è scritto che da quando ti comunica il conguaglio hai un termine per pagare l'inadempimento ad una sola di queste obbligazioni accessorie perché tali il contratto le configura comporta secondo quello che è scritto sulla poliza le stesse conseguenze di non aver pagato il premio qui c'è l'articolo 1901 cioè la copertura rimane sospesa e se si verifica un sinistro cioè per intenderci se fra quando è scattato quest'obbligo e quando io l'ho adempiuto da una parte la comunicazione dall'altra il pagamento qualcuno mi chiede un risarcimento di danno la sicurazione non paga come se io non avessi pagato nulla ma su questo devo dire c'è una sezione unite che dice beh insomma dopo 30 o 40 anni di giurisprudenza che assolutamente diceva questo diceva si si perbacco è come non aver pagato il premio e quindi la sicurazione non deve pagare c'è una sentenza a sezione unite che non dà una soluzione come dire assoluta chiara e confortante però sostanzialmente suggerisce di applicare una sorta di regola proporzionale cioè a dire se tu hai pagato un premio pari all'85% di quello che avresti dovuto e non hai pagato un saldo che era il 15 del danno te ne paghino l'85 poi ci sono pollice che prevedono diverse conseguenze alla mancata regolazione tipo la mia più favorevole ma questo è inutile che ve lo dica diciamo comunque che la giurisprudenza consolidata fino all'inizio degli anni 2000 credo se non oltre in quei termini ha avuto una spallata molto robusta perché insomma la sentenza del Sessione Unite è qualcosa vorranno ancora dire il questionario di cui il dottor Moreschi ha parlato quel questionario qui scatta come dire lui ne ha parlato un po' da 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 anglosassone quale non è ma insomma esponente di una cultura non codicistica in realtà le conseguenze pregiudizievoli di una non corretta compilazione del questionario hanno anche una sanzione nel codice civile cioè per intenderci il nostro codice prevede che chi fa chi ottiene una polizza stipula una polizza in forze di dichiarazioni false o reticenti condolo colpa grave può vedersi annullata la polizza se l'assicuratore apprende delle circostanze taciute o falsamente rappresentate nei tre mesi da quando l'assicuratore lo ha preso cioè se l'assicuratore lo apprende prima che accada un sinistro a tre mesi per dire la polizza non è più buona e manco ti do indietro i premi che hai pagato e comunque non ti coprirò mai in caso che la colpa non sia grave le conseguenze sono minori viceversa laddove l'assicuratore apprenda di queste circostanze sottaciute o falsamente rappresentate dopo un sinistro è legittimato a non pagarlo o a pagarlo in misura ridotta dove la colpa sia lieve perché si presume che sapute queste cose la polizza non sarebbe stata stipulata non sarebbe stata stipulata alle medesime condizioni non voglio andare su risvolti da altro tipo che forse sono regolati dal codice penale però voglio dire se io so di avere una magagnaccia in studio e mi vado ad assicurare magari proprio in vista dell'arrivo di quella richiesta risarcitoria non dico dicendo al danneggiato aspetto un attimo che vado a fare la polizza perché pure questo può succedere però battendolo un attimo sul tempo anticipandolo beh l'assicuratore ha tutti i diritti di rifiutarmi il risarcimento anche se questo avviene senza questa malizia che io ho configurato poi come vadano le contestazioni fatte dall'assicuratore a fronte di queste cose dipende un po' dal tribunale e da quello che l'assicuratore riesce a provare io su un punto del genere che secondo me puzzava lontano un chilometro ci ho perso una causa sia a min appello si vedrà però insomma a fronte di una bruttissima vicenda di responsabilità sanitaria un medico che aveva una pollizetta da centomila euro per un'attività diversa da quella che ha dato origine al sinistro passato un mese dal fatto si va a fare una pollizia da un milione di euro e passati altri due già che c'è un secondo rischio da due però per il tribunale non è bastato ma dio va benissimo c'erano dei problemi di prova ma lasciamola lì ecco per cui voglio dire questi obblighi sono obblighi di legge sono obblighi anche un po' deontologici perché c'è qualche obbligo di verità anche in deontologia per l'avvocato insomma che non riguarda solo l'attività giudiziale ma anche l'attività della vita privata e ancora più di queste che sono attività stipulare Napoli strettamente legate all'esercizio della professione la solidarietà io lo so che l'articolo 2055 alle compagnie d'assicurazione gli sta molto qua io eccepisco regolarmente ad esempio su una polizza dei professionisti tecnici ingegneri architetti che è una polizza stipulata per il tramite della loro cassa con una nuova compagnia di Bologna che io difendo spesso che prevede l'esclusione espressa della solidarietà c'è scritto testuale io rispondo solo per la quota di colpa tua e non quella di altri soggetti con i quali tu sei chiamato a rispondere in via solidale io lo eccepisco devo dire non ho ancora avuto una sentenza non ho ancora avuto nemmeno qualcuno che se ne è lamentato nel modo che suggerirei io e che qui non dico perché magari c'è qualcuno dei miei avversari però sulla bontà di questa clausola io avrei parecchie riserve parecchie riserve è vero però che in molte polizze è inserita diciamo che per l'avvocato la questione è un po' meno evidente e dove non sia scritta espressamente in polizza io francamente credo che la copertura anche in ambito anche per le quote di altri soggetti ci stia ipotizzo questo dominus è domiciliatario il domiciliatario fa un pasticcio di quel pasticcio il cliente ha tutte le ragioni di chiedere ragione al proprio avvocato perché in fin dei conti il mandato l'ha dato a lui l'obbligo peraltro è solidale nei confronti del cliente nel rapporto interno per di più il regresso è per l'intero perché il pasticcio l'ha fatto quello là io credo che il mio assicuratore forse debba rispondere per l'intero con regresso intero verso l'altro se poi quello è assicurato lì forse c'è un 1910 forse no ma è una questione che non dobbiamo affrontare oggi le spese di gestione della lite non polizza di tutela legale ma comma 3 dell'articolo 1917 allora innanzitutto vi rivelo una cosa il dottor Moreschi ve l'ha raccontata non giusta il quarto del massimale non è un quarto del massimale va a pagare le spese e quel che resta a pagare i danni è la proporzione il limite entro il quale l'assicuratore risponde delle spese con cui il danneggiato o me l'assicurato le spese che l'assicurato sostiene per resistere alle domande del danneggiato in aggiunta al massimale è un'obbligazione diversa per di più questa obbligazione cioè l'articolo 1917 erzo comma che regola un'obbligazione diversa da quella del primo comma che riguarda l'obbligazione tipica paghi tu al posto mio dice che appunto l'assicuratore è tenuto a far fronte alle spese che l'assicurato sostiene per difendersi dall'azione del danneggiato nei limiti di un quarto del massimale questa norma è inderogabile a danno dell'assicurato pur tuttavia gli assicuratori che ne sanno quasi una più del diavolo come aggirano legittimamente secondo me questa previsione con il patto di gestione della lite in tutte le polizie c'è scritto che l'assicuratore assume fin quando è nei limiti in cui ne ha interesse la gestione della lite non me l'ha assicurato cioè io assicurato devo offrirgli la gestione della lite dirgli guarda mi hanno fatto una citazione è qua ci pensi tu a difendermi e in relazione a questo patto c'è un altro articoletto che di solito sta al numero 20 non so perché che dice che l'assicuratore non risponde di spese di legali o tecnici da lei non nominati però cosa succede se io offro la gestione della lite e l'assicuratore per qualche ragione lo rifiuta mi dice guarda secondo me il sinistro non è in garanzia oppure ti chiedono quattro volte il massimale e quindi io rispondo in quei limiti è meglio se ti difendi da sole mi chiami in causa per consentirmi di eccepire questo limite e via dicendo a questo punto secondo me ma anche secondo il tribunale di Modena una sentenzina poco nota ma c'è scatta di nuovo l'obbligo se io però non ho offer se io invece senza dir nulla mi arriva una citazione mi costituisco con un collega improprio quel che sia chiamo in causa il mio assicuratore e gli faccio la domanda che va fatta espressamente perché è domanda diversa da quella tieni mindenne del 1917 terzo comma ebbene lì io non li devo avere perché non ho ho violato quel patto di gestione questa almeno è la teoria poi davanti ai tribunali il terzo comma nel 1917 sembra che non l'abbia capito nessuno la soluzione preferita è ignorare le domande ma questo è questione diversa quindi la gestione della lite è quella sul broker che dire io sono abbastanza d'accordo io posso permettermi di dire sperando che non ce ne siano in sala che in Italia di broker che rappresentino quella figura professionale qualificata e più qualificata della gente di assicurazione che dovrebbero essere ce ne pochi i più sono soggetti che non sono riusciti a farsi dare un mandato di agenzia dell'assicurazione l'ho detto io tanto non sono del mestiere ma il broker sarebbe la soluzione il broker è la soluzione negli altri paesi europei il mercato italiano è anomalo proprio perché è in mano per larga misura ad agenti monomandatari che per definizione difficilmente fanno appieno l'interesse del cliente perché bene o male i più che possono fare è vendergli il prodotto che hanno non trovargli un prodotto tagliato ad osso alle sue necessità che è invece quello che il broker dovrebbe fare e per legge in Italia il broker è un mandatario dell'assicurato del futuro assicurato dell'assicurando retribuito dall'assicuratore dovrebbe essere soggetto del tutto autonomo dalle compagnie di assicurazione che viene valuta il tuo rischio cerca sul mercato chi te lo copre nel modo migliore al prezzo più conveniente con delle garanzie di solvibilità perché il prezzo conveniente in mano a una compagnia che domani fallisce serve a poco di figure di questo genere ce n'è pochine anche perché in realtà molti broker poi hanno come dire dei legami più o meno stretti se non con una con un ristretto numero di compagnie di assicurazione non come dire non esplorano l'intero mercato ma una fetta abbastanza ristretta faccio un accenno a titolo di curiosità a quello che si è detto sulla vendita di polizze online invito chi ha voglia di perdere una mezz'ora a leggersi sul sito dell'IVAS dell'istituto che vigila sulle assicurazioni ex ISVAP uno studio su quei chiamiamoli motori di ricerca di vendita di polizze io posso fare un nome peraltro là i nomi ci sono più o meno tutti tipo Segugio tanto per dire che raccontano di cercare fra tutto su tutto il mercato la cosa migliore per te l'IVAS ci ha fatto un bello studio e vedrete che c'è scritto che non è vero nulla sono agenzie plurimandatarie che i risultati guarda caso cascano su 5-6 compagnie quando va bene questo immagino accada se non peggio per l'RC professionale io mi fermerei qui se qualcuno ha delle domande per me o per il dottor Moreschi una mezz'oretta grazie Mario domande? è tutto chiaro? do un consiglio andate in studio vi leggete la vostra polis e vi preoccupate tutta notte e non mi telefonare tutti domani domani è sabato e neanche lunedì chiedo scusa magari questo argomento è stato trattato e ci è stato dato qualche consiglio dall'ordine ma io non ho visto la mail di cui mi hanno parlato riguardo all'utilizzo del PCT le nostre polizze sono comprensive di questa attività possiamo stare tranquilli o dobbiamo chiedere un'estensione se mi date un secondo prima che il dottor Moreschi risponda o meglio no lei risponda poi di norma l'unica cosa importante è vedere se la polizza che ha acquistato è a rischi illuminati o non ha alcuna limitazione da parte di una lista presente è ovvio che se c'è una lista presente e lei non legge l'attività che deve svolgere è automaticamente esclusa e in caso di sinistro nessuno ne la pagherà mai è solo da andare a vedere se la polizza ha un elenco o meno tutto qua se posso aggiungo qualcosa anch'io perché quello che ho scordato era sostanzialmente in relazione a questo non specificamente ma in generale sui rischi quello che ho scordato di dire perché l'avevo scritto là in cima come prima cosa ma in ordine logico veniva dopo ha proprio a che fare su rischi esclusi rischi compresi ed è un discorso un po' più generale di questa domanda le polizze normalmente prevedono una copertura chiamiamola base le polizze a rischi nominati che sono la stragrande maggioranza che è bene o male la copertura dell'attività tipica seppur non necessariamente quella riservata mi spiego riservata è quella che se non lo fa un avvocato si finisce sotto processo per esercizio abusivo per noi l'unica attività veramente riservata è la difesa dei clienti in giudizio la consulenza non è riservata per altre professioni certe attività di consulenza rientrano in uno spazio di riserva ma questo è e ci sono polizze credo più ripeto riferite ad altre professioni che limitano appunto la risarcibilità all'area di riserva e che specificamente prevedono che ove quest'area di riserva venga ampliata per norme successivamente emanate queste non siano coperte se non con un apposito patto stipulato successivamente questo lo verificai già qualche anno fa in occasione di un convegno dove io del tutto da outsider fui chiamato a parlare perché era un convegno di diritto fallimentare di importanza nazionale io ho parlato però di polizze d'assicurazione quindi di robe che un po' capisco in relazione alla all'attività per esempio di attestatore attestatore della bontà di un concordato piuttosto che stimatore di cespiti dentro a concordati o fallimenti che consentano per esempio il pagamento in misura inferiore al 100% dei privilegiati la dico un po' generica perché ripeto io so poco di sta roba però credo insomma così sia ci sono queste figure istituite dalle varie riforme 2005 2007 se non sbaglio gli anni della legge fallimentare ora quell'attività è riservata a avvocati e commercialisti iscritti anche al registro quel che sia dei revisori contabili quindi è un'attività riservata attribuita da una norma che può essere quindi un'attività nuova creata ex novo che può essere non compresa nella polizia se la polizia è fatta prima le polizie d'avvocato sono un pochino meno pignole su questo diciamo però che la ecco venendo alla risposta sua io sono convinto che la responsabilità legata al PCT stia nell'attività base cioè voglio dire qui è una modalità come un'altra di deposito se poi come è l'unica consentita sì sì no d'accordo però voglio dire se uno non portava una memoria cartacea per tempo in tribunale non è che dovesse prevedere il ritardo nel deposito in modo espresso se questo ritardo si verifica per un pasticcio informatico poi è chiaro che bisogna chiedersi quanto l'avvocato risponda di un pasticcio informatico che non gli è imputabile se 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 e quanto questo è già più sfumato violi gli obblighi di diligenza tentare il deposito l'ultima ora dell'ultimo giorno mi va buco perché il sistema in quel momento è in default è perbacco qui stiamo un po' sul filo del rasoio va anche detto però che io dovrei avere il diritto se c'è tempo fino alle 6 del pomeriggio di oggi di depositare alle 17 59 di oggi perbacco dopodiché è chiaro che l'avvocato prudente se c'è tempo fino a oggi alle 6 l'ha fatto tre giorni fa e se ha visto che non è andato dopo riprova è colpa mia se non ha funzionato il sistema questo è tutta da fare la giurisprudenza infatti ho posto questa domanda perché la mia compagnia mi ha detto che il PCT non è altro che una modalità di esercizio della mia attività cioè un deposito però nell'incertezza fin quando non ci sono provvedimenti legislativi che recitano che è necessario emettere appendice specifica con limite massimale dedicato di norma nelle polizze diciamo senza la lista ma con una inclusione automatica delle garanzie non è obbligatorio chiedere nessuna precisazione adesso come accennavo prima per la storia del sovraindebitamento agli ordini professionali e a cui viene delegato questo tipo di gestione è richiesta una precisa estensione a un massimale o inferiore dal milione quindi è da discutere se è sufficiente la sola precisazione di indicazione di una parte del massimale relativa all'organismo che deve gestire queste cose anche perché si basa la legge sull'assunto che i vertici dell'ordine professionale sono in ogni caso responsabili della nomina della gestione dell'organismo quindi se noi non abbiamo come anche per esempio nel visto di conformità per i professionisti commercialisti e simili un dispositivo legislativo che dice ok la tua polizza professionale bene ma a parte di fare una polizza per la specifica attività con uno specifico massimale tutte le attività si intendono di norma incluse automaticamente nella polizza che si è acquistata questa è la norma sulle polizze all risk le polizze rischi nominali è meglio chiedere un chiarimento e una risposta scritta al proprio assicuratore altre domande niente sanno già tutto ringrazio ancora non mi vengano in mente lunedì e poi torniamo in zona grazie grazie a voi grazie 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 grazie